Attenzione signore e signori, è il momento del gran finale, che vittoria ottiene oggi il toscano Tommaso Ferri! Seconda posizione, il leader del Mastercross SLSVP, Luca Paletti, la maglia è sua! Cacetta è terzo, quarto, Ebra! E' il primo che si muove! Vince la gara Juniors maschile, un atleta toscano, portacolori della Valdarno, regia Congressi Seicom, Tommaso Ferri! Tommaso Ferri tra gli Juniors, grandissima prestazione, ci aspettavamo Luca Paletti, ci aspettavamo Paccaniella, invece hai dominato la gara. Oggi volevo questa vittoria, non me l'aspettavo, però la volevo. Era un percorso con tanta slitta, un po' di discesa, un po' più da mountain bike, forse le tue caratteristiche si sono sposate perfettamente col tracciato. Sì, ovviamente ci volevano le gambe, però sono un mountain biker e in discesa riuscivo a recuperare le forze per spigionarle tutte in salita. C'è un italiano tra due settimane, con quali aspettative ti presenti al Via e quali sarebbero i tuoi sogni per questa manifestazione? Il mio sogno, come tutti, è di poterlo vincere. Le mie aspettative sono di fare il miglior possibile risultato. Poi l'importante è dare tutto, poi il risultato come è... Dedica a tutti quelli che mi vogliono bene, che mi stanno stati accanto e anche a mia sorella che tutte le domeniche è qui a gareggiare.